La presentazione alla stampa dell'incredibile intervento chirurgico di ricostruzione della mandibola da parte dell'equipe maxillo-facciale è stata anche la prima uscita pubblica del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Luciano Flor. Prima intervista dopo la scelta dell'area per l'ospedale nuovo. Sentiamolo al microfono di Alessandra Mercanzin. Entro l'estate, afferma il DG, l'area dovrebbe essere pronta per l'avvio dei cantieri. Questa è anche la prima volta che la vediamo dalla nomina e dalla notizia che l'ospedale di Padova si farà a Padova-Est. Lei ha mantenuto un certo riservo dopo che la regione si è espressa. Questa forse è l'occasione per dire qualcosa. Io sono stato incaricato di presentare le diverse opzioni, le diverse valutazioni sulle diverse aree che erano proposte. Poi c'è una commissione molto importante, come sapete, che alla luce di questo mi pare che abbia l'unanimità deciso per quella che in questo momento sembra essere l'area che ci garantisse tempi rapidi per poter partire con i lavori. Un'area che secondo lei è funzionale a quello che dovrà essere il futuro ospedale di Padova? Le tre aree rispetto al centro storico di Padova sono equidistanti, sono collocate in posizioni che anche non avessero le caratteristiche che possono essere adeguate. Quella che è stata scelta è quella che al momento dà più garanzie. Oppure, se vogliamo vederla al contrario, presenta meno rischi rispetto ai tempi soprattutto. Per quanto riguarda i tempi, alla sua nomina è stata letta anche come un tentativo di accelerare nella direzione di ottenere questo risultato finalmente? No, non è questo. Se si potesse avere la bacchetta magica a accelerare i tempi lo si farebbe, però noi cercheremo di rispettare i tempi e credo che ci sia in questo momento l'attenzione del Comune per quanto riguarda quello che serve per adeguare l'area e gli strumenti urbanistici che serviranno e poi ne parleremo. La previsione è che per l'estate ci sia l'area a disposizione per poter poi lavorare perché un progetto non si può fare quando si sa esattamente su quell'area va a insistere.